Si riparte, o devo dire al pubblico anche stasera, avremo oltre alle classifiche, classifiche dei campioni, dei dieci che sono tornati a gareggiare e degli otto nuovi cantanti di Sanremo Giovani con la gara di eliminazione, avremo degli stranieri. C'è la Katie Lang, una cantante particolarmente chiacchierata, molto chiacchierata, molto seguita, molto ascoltata in tutto il mondo e poi incognito, un complesso che scatena le folle in tutti i dancing, in tutte le discoteche. A te adesso il piacere di presentare una collega alla quale so, e non sono ipocrita, sei molto affezionata. Si parla spesso di rivalità, è una parola molto ricorrente nel mondo musicale, però non è sempre così. Io bionda, presento un'altra bionda. Rettore! Rettore! Splendido, 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 splendido. Grazie. Rettore, cosa sei classifica tu? Sono la nona di Beethoven. Ebbene, è una bella sonata, sai. Ebbene, è una bella sonata. Dunque, la nona è una bellissima posizione, no? Beh, per me è anche... Si pensavi all'inizio, no? No, assolutamente. Ancora tutto può cambiare, come tu sai. Cioè, posso arrivare sempre ultima? Sì, anche questo. È anche questo. È la legge dello sport. È inevitabile. Allora, parliamo della tua canzone. Nella notte, nella notte, nella notte, nella notte, quanti misteri ci sono, quante fantasie, quanti abbandoni. Poi arriva il giorno, la luce del sole squaglia tutto e quindi meglio di notte specialmente. Sì, però io e Anna, infatti, siamo notturne perché come vedi il pallore ci accomune. Il sole non è... Non fa per noi. Non è vostra utile. No, assolutamente. Allora, Anna, l'annuncio ufficiale. Diretta da Pinuccio Pirazzoli, direttore e rego, di notte specialmente, rettore! Allora, grazie! Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte mi tornano alla mente, proposte fatte come niente, di notte le avventure avute facilmente. Sono acqua che mi sfiora leggermente, dimenticando continuamente, di notte specialmente. Di notte specialmente, si soffre raramente, di notte. Giocando solamente, può essere importante, di notte, ma in fondo è solamente divertente. Di notte, di notte, di notte specialmente. E romantica, certo non sarei, ma se farli un po' tutto ti vorrei. Ma la notte, la notte, la notte, la notte. Prendi tutto adesso, fallo dulcemente, indecentemente, e pensami di notte specialmente. Di notte specialmente, di notte specialmente. E di notte, di notte, di notte specialmente. Di domani, io oggi in giro. Di domani, ma di notte specialmente. Non mi do mandare, tanto già lo so. Avrei da lavorare, dolci assicuro. O non ci starei, ma se fossi in te, non ci conterei, te romanzicando certo non dovrei, ma se fargli un po' tutto ti vorrei. Ma la notte, la notte, la notte, prendi tutto adesso, falla audacemente, indecentemente, e pensami di notte, specialmente. E pensami di notte, e pensami di notte, specialmente. E pensami di notte, specialmente, rettore. Grazie, ufficialmente. Ciao, ciao, ciao.